La Toscana corre ai ripari sulla crisi energetica e sta preparando una serie di provvedimenti che vadano incontro a famiglie e imprese. La crisi derivata dalla folle guerra voluta da Putin ha provocato, come è noto, aumenti nelle bollette di gas e luce, creando gravi difficoltà soprattutto alle attività economiche. La regione quindi agirà su tre sistemi di approvvigionamento energetico, mantenendo la linea fin qui seguita di tutela dell'ambiente. L'incremento dello sfruttamento della geotermia, dell'idrogeno come combustibile o come accumulatore di energia elettrica a lungo termine e l'agrisolare, che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo. La regione, anche con i comuni, sta lavorando nei confronti del governo affinché l'utilizzo della geotermia venga ulteriormente potenziato. La regione si sta muovendo sulla questione idrogeno. Anche in provincia di Pistoia ci sono imprese che stanno partecipando al tavolo della regione, che ha coinvolto più di 250 soggetti, sia imprenditoriali che le università, e che ha visto già 80 proposte. Adesso la regione lavorerà a un bando pubblico affinché emergano, perché noi abbiamo come regione una stima di 200 milioni di euro sul PNRR per quanto riguarda la questione idrogeno. L'obiettivo della regione toscana è quindi l'integrazione di queste metodologie di approvvigionamento energetico con gli attuali sistemi, un meccanismo che dovrebbe portare anche a sensibili riduzioni nei costi abbinati alla tutela ambientale. Questo può aiutare a durare le tariffe dell'energia in questo momento di crisi, di forte crisi, anche da parte delle aziende. Ad esempio, se viene stimato che il 20% dei costi in un'azienda agricola viene appunto dall'energia, e questo già prima della situazione attuale, quindi immaginiamoci che attualmente col fotovoltaico, se si abbattono sensibilmente la dipendenza ovviamente dalla rete e quindi si va verso una logica di produzione di energia sufficiente per quelle che sono le necessità, si riducono indubbiamente i costi e chiaramente si migliora anche la qualità dell'ambiente.